La fase degli appalti risente sempre di grande burocrazia in questo paese, forse nei comuni manca una figura essenziale che è il direttore degli acquisti, meno burocrazia e più responsabilità probabilmente risolverebbero molti problemi. Tutte queste cifre, 40 mila piuttosto che 100 mila piuttosto che un milione di euro non servono se non per burocratizzare ulteriormente. La dirigenza va responsabilizzata dal segretario generale al direttore generale, ai dirigenti specialmente del settore tecno devono assumere molte responsabilità, debbono lasciare traccia del loro operato, dopodiché la cultura del sospetto deve essere assolutamente eliminata.